L'amore che ognuno di noi ha nei confronti della vita è così grande che molto spesso facciamo l'errore di dare per scontata la nostra stessa presenza su questo pianeta. E allora ecco com'è. Iniziamo a dare importanza a cose che non ce l'hanno. Giudichiamo il prossimo semplicemente perché vediamo in lui quello che vorremmo essere noi. Diffondiamo odio, timore, terrore. Sappiamo perfettamente che i media e le testate giornalistiche volontariamente eseminano il panico eppure, beh, eppure continuiamo a guardare e leggere ogni singola cosa che passa davanti ai nostri occhi. Non solo. Esatto. Ci siamo addirittura ridotti ad inquinare l'ambiente solo per pigrizia. Perché compiere quei dieci passi in più per buttare quella maledetta lattina nel cestino? Beh, sarebbe troppo stancante. Abbiamo devastato la terra. E adesso stiamo distruggendo anche noi stessi. Basta. Basta lamentarsi per tutto. Basta litigare con chiunque. Basta discutere. Basta giudicare. Basta pensare alla vita degli altri solo perché la nostra non ci soddisfa abbastanza. Basta. Adesso basta. Sai, succede proprio questo. Quando non badi all'amore e rispetto per te stesso e per ciò che ti circonda, alla fine ci pensa la vita a decidere per te. Arriva e, è come un fulmine a ciel sereno, ti getta contro tutte le situazioni più scomode e assurde. Tutte. Abbiamo massacrato noi stessi e tutti quelli intorno a noi per anni e anni. E adesso la vita ha detto basta. Ha scelto di decidere per noi. Il virus è solo l'ultimo di tanti segnali che ci stanno mandando per farci svegliare, per farci cambiare rotta. Ma questo è diverso. Questo inevitabilmente dovrà cambiare le cose. Non c'è altra scelta. Stiamo vivendo un cambiamento e si sa. La storia ci segna che solo chi si adatta meglio al cambiamento sopravvive. Probabilmente cambieranno le nostre abitudini. Saremo più attenti all'igiene, finalmente direi. Ci prenderemo più cura di noi stessi. Avremo più rispetto per la nostra persona e soprattutto per il prossimo. Ma la cosa più importante è che ameremo la vita esattamente come lei ama noi. Se però c'è una cosa che non è mai cambiata e mai cambierà nella storia dell'uomo è l'affetto che l'essere umano ha per i sogni, per gli obiettivi, per la prospettiva di vita che ha e che gli permette di vivere più intensamente il presente aspettando con entusiasmo il futuro. E allora, beh, e allora è proprio da qui che dobbiamo ripartire o comunque proseguire il nostro percorso a seconda dei punti di vista. È da qui che dobbiamo tornare a sorridere a ringraziare della nostra presenza a credere a credere in che cosa? A credere in una religione? A credere nella vita? A credere nel bene? A credere nei nostri sogni, appunto? A credere in noi stessi? Questo è il miglior momento che abbiamo a disposizione per riflettere su noi stessi su chi siamo davvero sul valore che vogliamo attribuire a questa vita sul bene che vogliamo compiere nei confronti del prossimo esatto il bene il bene è l'unico mezzo che abbiamo a disposizione per salvare questo pianeta per tornare ad essere felici Sai, c'è una bellissima frase di Rousseau che dice Io so e sento che fare del bene è la vera felicità di cui il cuore umano può godere E allora guarda questi ragazzi guarda Sofia Alberto Chiara Michele ma non solo guarda ognuno di loro ognuno con il suo bagaglio colmo di sogni Nei loro occhi c'è speranza c'è positività Nei loro occhi c'è tutta la voglia di amare di fare del bene Ora non ti dirò che torneremo tutti quanti ad abbracciarci No Ti dirò di più Se ascoltiamo in profondità quello che la vita ci sta comunicando Se facciamo come ci sta chiedendo avremo un mondo migliore Con più amore e meno odio Con più rispetto Ma soprattutto ognuno di noi tornerà ad amare la vita esattamente come lei ama infinitamente noi Buona giornata Buona giornata